filastrocca del mese di giugno il contadino alla falce in pugno mentre falcia l'erba il grano un temporale spia lontano gli scolaretti sui banchi di scuola hanno perso la parola apre il maestro le pagelle e scrive i voti nelle caselle signor maestro per cortesia non scriva quel quattro sulla mia quel 5 poi non ce lo metta se no ci perdo la bicicletta se non mi boccia glielo prometto le lascio fare qualche giretto il mese di giugno da filastrocche lunghe corte di gianni rodari legge benedetto patruno